La natura è un gatto gigantesco. E se così fosse, chi gli accarezza la schiena? Posso presentarle il geniale Nikola Tesla? Il più grande inventore di quest'epoca. Thomas Alva Edison. Ad accendere. Oh, Tesla. Non avevo notato che era qui. E ora ho il grande piacere di presentarvi un nuovo sistema di energia. La corrente alternata. Trasformerà il modo in cui funziona il mondo. Niente candele. È perfetto. Dove si era nascosto? La corrente alternata è uno spreco di tempo. Poco pratica e mortale. Tu vivi nei tuoi pensieri. Non lo fanno tutti. Ti mancano i fondi. Il signor Tesla crede che gli debba dei soldi. Quanti? 50 dollari? Sì. Anne Morgan, figlia di J. Pirpon Morgan. Una donna come quella può fare in modo che tutti i tuoi sogni si avverino. Si sono già avverati. Vuole una limonata? Lavori di notte in un laboratorio segreto. Tu spari dei fulmini dalla terra. Verso il cielo. Sto cercando di domare un gatto selvatico e sono diventato un ammasso di graffi sanguinanti. Oh, ti piace essere graffiato? Se necessario. Il mondo in cui viviamo è un sogno che Tesla ha fatto per primo. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.